Da lunedì 6 dicembre riparte a Chieti il servizio di rifezione nelle scuole comunali cittadine. Ieri la società Ladisa ha ribadito la sua disponibilità. Si procederà all'igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici interessati e la società garantirà diete speciali e tutte le norme di sicurezza previste per la tutela della salute dei bambini. Questo dopo le polemiche e le varie vicissitudini durante settimane. Il sindaco di Chieti Diego Ferrara. Si partirà il lunedì 6 dicembre. Abbiamo interloquito con la Ladisa dopo la sentenza, dopo il dispositivo del Consiglio di Stato che ci dava torto sulla sospensiva del Tar e che ci consigliava o intimava di dare continuità al fatto delle menze all'ultima azienda che aveva espletato il servizio. L'ultima azienda è stata la Ladisa che ha concluso l'anno scolastico e quindi noi, ossequiando il dispositivo del Consiglio di Stato, abbiamo quindi affidato alla Ladisa il continuo, almeno nell'emore della sentenza del Tar che dovrebbe avvenire in primavera. Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza per i bambini, aggiunge il sindaco. Sicuramente l'obiettivo è quello, lo è sempre stato. L'anno scorso abbiamo avuto dei problemi, la Ladisa stessa ne è cosciente e l'ha ammesso per problemi forse inerenti ai centri di cottura. Quest'anno abbiamo interloquito, ripeto, con la dirigenza della Ladisa per ottimizzare il servizio, saremo ovviamente pronti a monitorare e comunque la Ladisa ci ha assicurato che quest'anno non ci saranno assolutamente sorprese. Anche perché bisogna essere attenti più che mai alle norme anti-Covid? In effetti il problema che si poneva era quello che molti bambini continuano e probabilmente continueranno a portare il pasto da casa e molti genitori vogliono che continuino così e quindi si porranno dei problemi di stringente igiene nella somministrazione dei pasti che probabilmente dovremo fare nelle aule stesse e non proprio nelle sedi e nelle stanze adibite a mensa. Quindi ci sarà un ancora più stringente controllo.